Continuando di questo passo per capire dove è finito il presidente della regione molise Paolo Di Laura Frattura, i molisani dovranno rivolgersi alla trasmissione Chi l'ha visto. Sta di fatto che da mesi Frattura inframezza con assenze copiose imbarazzanti le presenze ormai episodiche sporadiche in consiglio regionale. Con scarso nullo senso delle istituzioni il governatore fa mancare al dibattito politico il doveroso contributo a cui è tenuta la più alta carica della regione. Le decisioni, le discussioni, le analisi avvengono quasi sempre in sede extra istituzionale. Conseguenza dell'inqualificabile comportamento è l'umiliazione del consiglio regionale e la cancellazione di fatto delle sue funzioni. Il caso Eres trattato nelle ultime due sedute del consiglio regionale è paradigmatico del nuovo corso della politica molisana quella nata come molise di tutti e finita come molise di uno. L'ente regionale per l'edilizia sociale, quello che andrà a sostituire i vecchi istituti per le case popolari, è stato voluto, concepito e disegnato dall'attuale maggioranza, varato il 2 dicembre 2014 con la legge numero 21. Agli stessi che l'hanno voluta, ora la legge sta stretta. A Frattura perché vorrebbe che a governare l'ente, che anche una macchina di voti, fosse un uomo solo al comando, un direttore generale di sua esclusiva fiducia ai dissidenti del centro-sinistra, che invece vorrebbero l'ente, condotto da un consiglio di amministrazione. Sostengono questi ultimi che un CDA fornisca maggiori garanzie di trasparenza e buona amministrazione. Dopo un braccio di ferro la contesa è stata risolta nel corso di una riunione tra fratture pochi intimi nella quale è stato deciso di rimandare il testo con gli emendamenti in commissione. Questo è quanto ha poi ratificato il consiglio regionale. Frattura, come al solito, era assenta ai lavori dell'aula, a conferma di come la liturgia politica da egli imposta abbia ridotto la massima assise regionale in un luogo registrativo di questioni risolte altrove. Dalle dichiarazioni a scoppio e detonazione rivolte agli avversari o verso chiunque contraddica le sue tesi e i suoi desiderata, sino alla marcia a scarponi chiodati sul consiglio, quello messo in campo dal governatore è una sorta di macismo istituzionale, dove è il più forte, che talvolta coincide anche con il più prepotente, ad avere sempre ragione. Tra 18 mesi si vota e la campagna elettorale è già iniziata. Frattura continua a disertare il consiglio, ma forse la spiegazione potrebbe essere più facile di quello che si crede. Si sta semplicemente abituando all'idea di lasciare il palazzo. In fondo la carriera da salvatore della patria, milite ignoto della politica molisana, è dietro l'angolo.